Musica Buongiorno cari telespettatori di FanoT2, benvenuti a questa rassegna stampa, a questo appuntamento quotidiano con i giornali mentre voi probabilmente sorseggiate il vostro primo caffè sfoglieremo i quotidiani in edizione locale ma prima guardiamo il santo del giorno e poi le previsioni del tempo, oggi è mercoledì 4 marzo, San Casimiro, Principe, il sole è sorto alle 6.39 e tramonta alle 18. Allora, previsioni del tempo, guardiamo cosa ci dice la nostra stazione meteo, quali sono i dati da lei rilevati, la temperatura in questo momento a Fano è di 4,5 gradi e con un'umidità del 92%. Guardiamo la foto della webcam, come vedete il cielo è terzo, non ci sono nuvole all'orizzonte, insomma si prospetta, vedete con dei bellissimi colori una buona giornata. Invece di tutt'altro avviso è la protezione civile che per oggi, mercoledì, mette un cielo parzialmente nuvoloso al mattino con progressivo aumento della copertura fino a cielo nuvoloso nel pomeriggio, vedete grosse, anche importanti, le precipitazioni nella seconda parte della giornata diffusa sui settori settentrionali, anche a carattere di rovescio, di temporali nella serata e quindi compaiono anche le nevicate, la simbologia della neve intorno ai 1.500 poi un brusco calo, un calo delle limite della nevicata intorno ai 900 metri, le temperature per il momento non vengono toccate però invece domani la situazione cambia radicalmente, come vedete anche la simbologia è molto eloquente, molto nuvoloso, temporali, piogge soprattutto nella prima parte della giornata e poi anche nei settori interni ricompagno le nevicate, questa volta la quota neve è intorno ai 500 metri e poi ci sarà anche nel corso della mattinata, insomma un calo, la neve farà comparsa intorno ai 300-400 metri insomma, quindi insomma, grande attenzione verso questo fenomeno, fa la ricomparsa quindi la neve, una brusca impennata del maltempo e appunto le temperature sono in sensibile diminuzione, vediamo per venerdì, il tempo migliora leggermente, ricompaiono i soli nella simbologia oltre alle nuvole, quindi parzialmente nuvoloso, però con maggiore intensità nei settori meridionali, questa coda del maltempo probabilmente che scende verso il sud d'Italia, però il limite delle nevicate, vedete, rimane intorno ai 500 metri insomma, quindi attenzione, in mezza settimana sul fronte del maltempo abbastanza impegnativa, soprattutto per chi si sposta e quindi anche la viabilità. Guardiamo le notizie, andiamo nelle pagine del resto del Carlino per una importante operazione antidroga che è stata messa appunto dalla questura di Pesaro. E allora guardiamo ricette stupefacenti perché finisce per la seconda volta a poca distanza nei guai un cuoco che appunto, insomma, il Carlino oltre alle ricette probabilmente faceva altre cose e cuoco in manette, rinchiuso anche un albanese che abita a Fano, sono stati recuperati tre etti di coca Entrambi si trovano appunto nel carcere di Villa Fastigi e le indagini continuano, si cercano anche collegamenti in altre direzioni e quindi insomma la questura di Pesaro, vedete, ha recuperato un notevole quantitativo di droga e brillante operazione per contrastare questo fenomeno. Rimaniamo nelle pagine del resto del Carlino però partiamo da Fano, una zona che noi abbiamo attenzionato sempre diverse volte ed è quella del Pincio e vedete un po' le immagini sono eloquenti. Guardate qui, questa è la situazione di questo bellissimo balcone che si affaccia sull'arco d'Augusto, il degrado del Pincio spazio di droga tra mura imbrattate, tutti condannano ma nessuno fa nulla, scene eloquenti come vedete insomma qui, degrado, sporcizia, scritte, insomma ce n'è per tutti i gusti la voce dei fanesi dice sarebbe uno dei nostri gioielli, provate a fare il giro vedete che accoglienza viene riservata ai turisti e poi domani al Politeama si tiene un omaggio a Lucio Dalla perché domani appunto è una data simbolica quella del 4 marzo per il cantautore bolognese. Ancora le pagine di Fano del resto del Carlino, parliamo della zona dell'ex zuccherificio, una zona anche questa che è estremamente travagliata per diverse vicende rispetto a quelle del Pincio, variante zuccherificio, le accuse di Duranti amministratore di Madonna Ponte hanno avuto paura di 4 commercianti, queste le sue parole il confronto al porto si parla di nuovi 110 posti, noi in quell'area ne creavamo ben 1300 naturalmente si parla di posti di lavoro, vedete l'area dello zuccherificio e nel riquadro la foto di Gabriele Duranti, l'amministratore unico di Madonna Ponte. Ancora chiudiamo con le pagine di Fano del resto del Carlino e la promozione turistica passa anche attraverso lo sport e questa è l'intenzione del Panathlon che annuncia la notte dello sport, la data c'è già, è quella del 5 settembre, appunto annunciato dalla Panathlon durante l'ultima assemblea. Una manifestazione che attirerà sportivi da tutta Italia e quindi è l'importante vessillo, lo vedete riquadrato appunto nella fotografia del Panathlon Club. Allora rimaniamo nelle pagine del Carlino, chiudiamo però quello che è anche il settore, le pagine che riguardano Pesalo. Come sempre i volontari ce la mettono tutta per colmare qualche gap e anche in questo caso intervengono in soccorso delle nostre scuole asili e materne, adesso ci pensiamo noi pronti 50 volontari, genitori, disoccupati, tutti coloro che vogliono armati di buona volontà mettere insomma in sicurezza e un restyling alle scuole, pronti appunto 50 lavoratori volontari per piccoli lavori di manutenzione in 17 plessi scolastici, qui ne vedete uno in azione che pennello alla mano ritinteggia una parete e allora insomma riconoscimento e ringraziamento da parte di coloro che lavorano e fruiscono di queste strutture, Arcobaleno, un nido, maestre e mamme ringraziano appunto i disoccupati che si hanno ridipinto e risistemato parte della struttura e quindi come vedete belle pagine insomma perché alle volte con un po' di buona si colma qualche gap istituzionale. Cambiamo testata, andiamo nel Corriere Adriatico, anche qui in evidenza sulla pagina di Pesaro l'importante operazione antidroga messa appunto dalla Questura, sequestrata, cocaina e anche un'arma da guerra. Secondo le stime appunto questo traffico di di droga fruttava 40 mila euro al mese e nella foto vedete appunto quest'arma da guerra fornita di caricatore di munizioni ricoverata in una scatola e ritrovata nelle perquisizioni. Ancora dalle pagine del Corriere Adriatico però parliamo di Fano, bilancio, bilancio CGL, l'aggiunta aiuti i soggetti più deboli, questa è la richiesta di Simona Lecce che chiede detrazioni ed esenzioni tasi e riduzioni IMU su affitti sociali e aumento del fondo anticrisi. E poi una di cronaca centro pagina, tagliate le gomme, è una ritorsione contro il comune, è l'ipotesi della Polizia Municipale per l'atto di vandalismo nella notte contro 5 autovetture che le vedete appunto in queste foto che sono state appunto oggetto di questi atti vandalici. Avviate, insomma avvisate anche delle immagini e avviate delle indagini per risalire all'autore, si confida nelle telecamere, il danno aumenta, insomma il danno supera i 400 euro. Ancora dalle pagine del Corriere Adriatico il Carnevale è un brand vincente, questo sicuramente lo abbiamo visto alle ultime edizioni, soprattutto l'ultima ha segnato numeri da record e quindi allora si tenta di appunto allargare un po' l'ospetto di questa manifestazione. Carnevale brand vincente tutto l'anno la Fano dei Cesi favorisce l'incontro tra romanità e travestimento, quali sono gli impegni assunti in questo articolo di Lorenzo Furlani? Città del Carnevale Fano ma anche quella appunto della romanità, l'obiettivo qual è? È quello di realizzare iniziative per un flusso continuo di turisti per i fondi, c'è anche il merchandising che sempre insomma dà un po' di ossigeno alle iniziative, insomma con magliette, con gadget, con qualsiasi cosa, insomma si crea un flusso di denaro che poi viene convogliato per queste iniziative stesse. Andiamo nella pagina che riguarda la Val Cesano, parliamo del sottopasso di Marotta, del passaggio a livello, opere compensative, c'è l'ok entro 15 giorni, Carloni, reduci dall'incontro romano, è stato chiesto il massimo prolungamento del sottopasso pedonale e quindi altra modifica ottenuta da ferrovie italiane è l'allargamento della rampa per i disabili, quindi anche qui andiamo verso una stabilizzazione di questa iniziativa. Cambiamo testata, l'ultima che guardiamo è quella del messaggero, partiamo dalla pagina di Pesaro che annuncia una stagione allungata dei bagnini che vogliono sfidare il maltempo, come si dice la miglior difesa è l'attacco alle volte e quindi nonostante l'amareggiata scorsa che ha devastato tutto il littorale e un nuovo allertametro, gli operatori balneari provano ad anticipare l'apertura della stagione. Vediamo di spalla un richiamo allo smog in questo articolo perché dalle pagine del messaggero si dice appunto che il 2014 è stato un anno di tregua, le polveri sottili non hanno creato problemi però nei primi due mesi dell'anno, del 2015, sono ritornate su valori che sono considerati appunto fuori legge. Anche qui nelle pagine del messaggero in grande evidenza l'operazione antidroga della polizia, doppio colpo allo spaccio della droga. A Fano è preso appunto per la seconda volta un cuoco e a Fano un pusher albanese che si divedeva tra Pincio e il parcheggio del cimitero monumentale. Ultima pagina vediamo quella di Fano del messaggero, si avvicina l'8 marzo, naturalmente la festa delle donne che ricordiamo festeggia una tragedia purtroppo che si è consumata in una Finlanda in Inghilterra e quindi insomma è un'occasione da festeggiare, da commemorare più che altro, più che da festeggiare. Ricordiamo questo aspetto che forse non sempre è chiaro. Iniziative in vista dell'8 marzo, all'8 marzo al Via pomeriggio, oggi con un dibattito a più voci sul tema appunto della violenza e la lotta al crimine comincia proprio dalle donne. Quindi oggi pomeriggio nella sala della Concordia alle 17.30 si tiene questo incontro che parlerà di donne e di sicurezza, ma sono tre le iniziative messe in campo dal Comune per commemorare questa data. Ecco, commemorare questa data, utilizziamo i termini giusti. Ex zuccherificio a centro pagina si riparte da zero dopo la bocciatura in Consiglio Comunale della variante. Iniziato il confronto sull'ultima grande area di sviluppo. Il progetto sarà legato a doppio filo alla revisione del piano regolatore. Bene, con questa ultima notizia chiudo qui questa rassegna stampa, grazie per essere stati in nostra compagnia. Occhio ai giornali torna domani mattina alle 7.30 e questa sera occhio alla notizia alle 20.30. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. Grazie. Grazie.